Arrimini ai campionati nazionali di danza sportiva, eccellenti risultati sono stati ottenuti dai ballerini della scuola di danza a Chiise Baira Academy di Adano dei Maestri Vitolanza e Desire Di Stefano. Cinque primi posti e altri buoni piazzamenti. Vitolanza allora una pioggia di medaglie per la vostra scuola di danza, ma cosa c'è dietro il podio ottenuto dai ragazzi? Allora dietro a tutto ciò c'è il frutto di un sacrificio dei ragazzi e anche i nostri insegnanti che ci siamo messi sappiamo benissimo il periodo che stiamo attraversando quindi da pochi mesi ci siamo riattivati come struttura quindi i ragazzi in pochi mesi hanno dovuto prepararsi questi campionati e possiamo dire che il frutto è arrivato e è arrivato abbastanza succoso come si suol dire quindi noi siamo contenti dai nostri ragazzi abbiamo ottenuto soprattutto i finali ma tutti i podi soprattutto quindi per noi i maestri è un onore e soprattutto ci tenevo a dirlo due cose la prima è che quest'anno a parte la nostra disciplina che sono le danze caraibiche abbiamo presentato anche l'hip hop e la danza contemporanea come nostro primo anno e posso dire che siamo andati sul podio pure lì e la seconda che volevo dire è che volevo ringraziare tutti gli atleti della nostra scuola perché hanno messo anima e corpo per portare avanti sia il loro nome sia la loro città e sia la loro scuola Desiree abbiamo detto una pioggia di medaglie diciamo i nomi e i cognomi di questi ragazzi sì in primis ci tenevo però a precisare che la nostra accademia è frequentata da ragazzi che provengono da varie zone della Sicilia quindi fanno parecchie ore di viaggio anche per raggiungere la nostra sede e quindi il sacrificio è ancora maggiore quindi un premio in più allora intanto abbiamo una sfilza di primi posti tra cui Maccarone e Giuseppe che balla pure in coppia con Agatina Leanza quindi raggiunge il primo gradino del podio sia nel singolo che in coppia Buscemi Samanta e Chiara Sofia in un duo Bua Salvatore e Giuffrida Beatrice Bulla Rossella e poi abbiamo una miriade di vice campioni italiani tra cui Cusumano Emanuele Marica Grassia, Buscemi Samanta sempre vice campioni italiani un gruppo su cui noi investiamo tempo e fatica perché crediamo che sia un grande progetto all'interno della nostra scuola poi abbiamo sempre finali per il nostro Cusumano Emanuele e Staliss Michael in un duo Lo Bianco Roberto e Giardino Anna Maria provengono loro da Augusta Scarvaieri Desiree, Russo Maria Grazia, Gullotta Kimberli, Scalisi Evelyn Giuffrida Beatrice col suo singolo Bellie Simone e Russo Maria Grazia nel loro duo Uccellatore Federica Buscemi Samanta e Chiara Sofia Bellie Simone, Scalisi Evelyn e Uccellatore Federica nel duo Cusumano Emanuele e Savo Calessia in coppia e tantissimi semi finalisti che comunque in un campionato di questo calibro è sempre un grandissimo risultato perché parliamo di categorie con centinaia di iscritti quindi Pellegriti Vincenzo, Uccellatore Dalia nella categoria più alta classe internazionale Finocchiaro Grazia, Savo Calessia, Caruso Arianna, Michael Salis e Viro Letizia Palermo Serena, Salis Michael nel singolo, Viro Letizia nel singolo e Chiara Sofia nel singolo Oltretutto quest'anno comunque abbiamo avuto vari piazzamenti anche importanti nell'hip hop con Proietto Flavio secondo classificato Chisari Noemi al quinto San Mataro Chiara al quinto e il gruppo New Squad un grande progetto del maestro Vincenzo Corsaro che si classifica al secondo posto nella categoria battle e poi ci sono tanti semifinalisti tra cui Morena Pagano Ventura Martina con Suolora Pisarda Chisari Desiree e Chiara Sofia Chisari Noemi al quinto